Oltre 53 tonnellate di alimenti in scatola e a lunga conservazione, il 15% in più rispetto allo scorso anno. Ecco come è andata la colletta alimentare che nell'Astigiano si è tenuta in 87 punti vendita a supermercati e ipermercati, dislocati in città e nei paesi, ed ha coinvolto oltre 600 volontari. Un dato, quell'Astigiano, in controtendenza con l'andamento su scala nazionale. Ma io penso che si possa spiegare in un modo solo. Non vorrei che fosse la troppa pubblicità data al banco dal recente sfratto della provincia, per cui certe persone hanno sentito parlare per la prima volta di Banca Alimentare. Banca Alimentare ormai opera da tantissimi anni e quindi sul territorio è presente, però non è che abbiamo mai fatto come credo si fa per un'opera di carità grande pubblicità. La carità non ha bisogno di pubblicità. La colletta rappresenta all'incirca il 17% del fabbisogno annuale del Banco Alimentare, associazione senza scopo di lucro, che si occupa di raccogliere e distribuire alimenti per chi non si può permettere neppure un pasto. Il Banco raccoglie gli alimenti e poi, grazie all'Associazione Alpini, li distribuisce. Questi generi alimentari nella provincia di Asti dove vanno a finire? Dunque vanno a finire a una cinquantina di enti che sono convenzionati col Banco Alimentare. Questi enti convenzionati poi a cascata lo distribuiscono ai poveri, con borse quindicinali, mensili e settimanali, dipende. Parliamo di più di 6.000 persone bisognose in Asti e provincia, di cui 1.200 che sono seguiti dalla messa comunale. La struttura di via Palestro però sarà messa in vendita dalla provincia da gennaio, dopo la comunicazione di sfratto ricevuta a ottobre scorso. Che ne sarà della colletta dell'anno prossimo? Dove andrete? Ma io, insomma, la disdetta è scaduta a ottobre, adesso abbiamo chiesto e ottenuto una parologa con il silenzio assenso di tre mesi fino a fine gennaio e poi ne chiederemo ancora. Abbiamo delle assicurazioni così, verbali, che insomma non ci sfatteranno subito. Nel frattempo non è che stiamo con le mani in mano, ma cerchiamo, spero anche con l'aiuto del Comune, di individuare un paio di posti dove poter traslocare. Noi abbiamo bisogno di spazi ampi.